Anche se con diverse limitazioni è stata riaperta, come promesso, la cabinovia dei Prati Itivo. Numerose le persone presenti per questa prima giornata grazie al sole e alla neve fresca caduta negli ultimi giorni. Anche se manca ancora diverso lavoro da fare, questa riapertura parziale rappresenta un'importante speranza di rilancio per tutto l'entroterra del Terramano. Sono stati mesi difficili, mesi lunghi, abbiamo affrontato tante difficoltà, diversi inconvenienti, diversi problemi, però alla fine questo è un segnale importante per questo territorio perché riaprire, seppur parzialmente, seppur in questo momento dell'anno, è un abboccare di ossigeno per le attività del luogo e ne avevano proprio bisogno. Quindi un segnale di positività per un rilancio vero riparitivo che ci auguriamo avvenga nella maniera più completa il prima possibile. Questo è un primo step, adesso si deve anche iniziare a programmare il futuro. Il presidente Diego di Boveventura ha detto che il prossimo bando sarà decennale. Noi da anni chiediamo, a questo punto pretendiamo, programmazione perché senza programmazione non si va da nessuna parte e si arriva a situazioni di questo tipo qui. Si deve programmare, fare un business plan importante che possa dare continuità, tranquillità e una prospettiva di un ottimo futuro per questa stazione perché lo merita veramente. Il praditivo, il transasso Terramano meritano di più di quello che hanno avuto fino adesso. Noi l'abbiamo fortemente voluto nonostante le problematiche che si sono susseguite in questi mesi e finalmente siamo riusciti comunque a dare questo input di ripartenza per la stagione sciistica che comunque volge quasi al termine ma che sperando nella coltre di neve che sta sul campo possa mantenere fino a marzo inoltrata per dare la possibilità anche alla società di poter comunque portare avanti questo progetto per il rilancio della stazione sciistica. Mantenuto le promesse, due giorni purtroppo li abbiamo perduti causa maltempo, sono state chiuse tutte le stazioni qui intorno. Noi in più stavamo facendo le manutenzioni in corso quindi abbiamo dovuto lavorare il doppio. Però ecco, oggi gli impianti girano, questa notte c'è stato un piccolo gelo su un traliccio, questione di minuti, qualche mezz'ora e apriamo l'impianto. Le piste apriranno solo domani dopo il benestare di un'ispezione che facciamo adesso sulle piste. Però è stato veramente un miracolo questa giornata, è stata una sinergia tra politica e privato veramente, veramente importante.